Penso al derby dell'anno scorso dove lo risolssero Bonucci e McKennie per poi andare a giocare la partita di Champions con il Barcellona dove McKennie fece il gol E iniziò il periodo ottimo di McKennie, se ve lo ricordate l'anno scorso, partendo proprio dal derby per poi interrompersi a un certo punto McKennie sei sempre in ritardo, sbagli le giocate, sbagli le pensate, regali i calci d'angolo, minchia Ciao ragazzi, ho il piacere di annunciarvi che il video di oggi è gentilmente offerto da Eneba Un marketplace di giochi veramente ben 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 rifornito di cui troverete il link in descrizione Su Eneba potrete veramente acquistare di tutto, dalla PSN Card fino a giochi di ogni tipologia, di ogni piattaforma Ragazzi fateci un salto, potreste trovare il gioco dei vostri sogni ad un prezzo stracciato e tra l'altro in descrizione Troverete anche il codice sconto Luca Toselli con cui potrete risparmiare qualche soldino E poi lo sapete, questo è il momento giusto per acquistare FIFA 22 Per passare alcune giornate d'inverno davanti alla PlayStation in compagnia di un buon gioco Che vi farà ovviamente arrabbiare ma che come sempre vi terrà incollati allo schermo Non fatevi sfuggire questa opportunità, controllate in descrizione, cliccate sul link di Eneba e andate a fare un giro Perché sicuramente un titolo adatto alle vostre esigenze lo potrete trovare L'ultimo gioco l'ho palesemente comprato per Ragù, ha detto che gli piaceva molto e ho deciso di prenderglielo Iniziato adesso, è iniziato il derby ragazzi Ok, palla nostra, in contropiede Ken? 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 Ancora Ken? Cavolo! 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 Perché qua c'era l'opportunità di andare subito in vantaggio Chiesa prova prima di tutto proprio Attenzione, 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 attenzione Poi in tempo dopo più l'ingasso Ciao Luca, come va? Forza Juve Se l'è mangiato McKennie Se l'è mangiato McKennie Eh, almeno lo specchio, sì, mettilo in difficoltà al portiere Fagli fare una parata, cioè Attenzione, 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 McKennie, 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 McK Lukic si è divorato divorato un gol ragazzi stavamo prendendo gol su rimessa laterale su rimessa laterale quadrato immagino scelta tecnica ma che bel passaggio di Chiellini ragazzi la live direction finisce non si può in quel è esattamente lo stesso l'ora che ho fatto l'altra sera con il Chelsea passaggio non dico banale ma nemmeno complicatissimo basta dosare la precisione e la forza e siamo in porta no, la risposta di Rabiot è no dai Fede, questa è la tua azione è la tua azione Fede bravo per Ken per Ken e tutti gli altri ancora Ken fin in fondo i grossi in mezzo fa l'amore per Berlandeschi la tiene viva Berlandeschi si propone lo capelli che va contento c'è deviazione c'è cazzo sciuppa la 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 ma no cosa è parato Alessandro Alessandro vicinissimo al gol adesso una buona Juve una buona Juve adesso Alessandro vicinissimo Milinkovic Samic con la mano di richiamo madonna Sandro ma quanto va oggi Alessandro McKennie sei da solo in area McKennie cos'è questa cosa McKennie cos'è questa cosa boom 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 uh questa era una bella occasione questa è una bella azione va bene peccato si è alzato un po' troppo dai vai Kuru attenzione questa è buona questa è buona attenzione questa è buona attenzione questa è buona no no bravo rabbio era giustissima era giustissima porca vacca McKennie porca di una puttana McKennie LOCATELLY LOCA LOCA TELLY TELLY LOCA LOCA TELLY TELLY LELLY CHELLY LOCATELLY LOCA 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 TELLY TELLY LOCA LOCA TELLY TELLY LOCA 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 LOCATELLY E' bravo chiesa che fa l'assist gobaccio maledetto che non sei altro LOCA Sei un gobbaccio maledetto Sei un gobbo di merda Sei un gobbo di merda Bravo Chiesa E bravo Loca Un centrocampista Questo ragazzi è un centrocampista La risolviamo con il nostro futuro Chiesa Locatelli Gobbacci bastardi Siete dei gobbacci Caio Orge Caio L'esordio di Caio Re Caio sta entrando Momento catartico È nostra Buono Un trattore Coluseschi in quest'azione Fantastico Coluseschi Bravissimo Lì Calma come dice Max Calma Bravo Caio Perfetto Perfetto Caio La sua area tecnica La sua area tecnica di Allegri Valleberto D'Elite Altissima Pobega Valle di attacco Troppo fermo Polizione Vanna Juve E se c'è una postante In queste due partite Queste due vittorie D'Elite E se la presso Che questa ragazza E c'è lì Si E' cresciuta Sì E non è un derby di Torino Se non si vince Al novantesimo Il derby della mole Come sempre Si vince alla fine Il derby della mole Si vince Sempre Alla fine Il derby della mole Corto muso E via andare